Piccolo e bello e naturale e buono sono i principi da cui Andrea Rasca ha tratto ispirazione per il suo progetto di successo Mercato Metropolitano, uno spazio dedicato al cibo, alle relazioni sociali e alla cultura che ideato in occasione di Expo Milano 2015 ha trovato la sede a Londra. Un modello che proprio Andrea Rasca ha potuto illustrare agli studenti dell'Istituto Italiano Design di Perugia, i quali, a seguito di un'intesa siglata febbraio tra l'Istituto e il Comune, hanno lavorato nella realizzazione di possibili visual per il mercato coperto che verrà. Abbiamo avuto l'opportunità di invitare Andrea Rasca all'interno della nostra struttura e quindi a divulgare quella che è la sua filosofia di marchio ai nostri studenti, che poi si declina nelle diverse aree perché come abbiamo avuto occasione di sentire ha parlato di progettazione degli interni, quindi degli spazi, ha parlato di possibilità di portare alta anche la nostra filosofia artigianale nel mondo, quindi anche nella moda e soprattutto poi nel food. Un modello questo di mercato metropolitano che potrebbe appunto trovare spazio anche a Perugia. Uno dei nostri progetti più importanti è la parte educativa, quindi venire qua a parlare per noi è fondamentale. Il progetto di mercato metropolitano prevede di ridare valore e potere ai piccoli produttori, quindi small is beautiful è il nostro motto, ai piccoli farmers, agli artigiani, ai giovani, per ricreare un ambiente di consumo e di retail sostenibile. Questo è quello che manca in questo momento nel mondo. Parlando e conoscendoci abbiamo scoperto anche, oltre alla condivisione di valori, anche un possibile iter progettuale da avviare con i nostri studenti e quindi da qui poi partono le diverse possibilità anche per loro. Infine non è mancato qualche consiglio per gli studenti dell'Istituto Italiano Design. Il design deve essere come un vestito sartoriale fatto ad hoc su quello che si trova e sulla proposta che si deve fare. Non deve essere a prescindere dal contenuto, come molti dei punti commerciali adesso, che li fanno bellissimi e poi il prodotto non è tanto buono. Noi andiamo al contrario. We are loud like love We are loud like love We are loud like love We are loud like love